buongiorno buongiorno a tutte signore chissà se arriverà una notifica a tutte le signore che mi hanno detto che sarebbero state in diretta dopo minacce perché io prima ho detto signore io vi vedo e se non siete in diretta vengo a prendervi a casa e adesso aspetto ancora un attimino vi faccio vedere questo cielo stellato l'abbiamo chiamato cielo stellato una signora mi ha detto che sembra il la rugiada invernale e una signora mi ha detto anche un cielo estivo anche se io ci sono l'antonella benvenuta cioè tutte e due allora questa mattina due angela adesso due antonella in diretta io ci sono già la nives la liliana ciao lara giro mi faccio vedere no ma oggi era uno scherzo io oggi non volevo farvi vedere niente non è vero non è vero buongiorno sapete che quando presente eleonora allora oggi non mi fate viaggiare prima ho detto se non ci siete io poi guardate se non ci siete io poi vengo a casa per casa e vengo a prendervi e quindi ho detto tanto io non ho niente da fare chiudo su tutto e faccio il giro d'italia e invece ci siete tutte e la lorella la valeria l'eleonora sono contenta sono anche un po agitata l'antonella artemaglia che è stata la prima ad essere in diretta l'ho sentita un attimo fa e gli ho detto boh io oggi c'ho la diretta ma sono agitata e l'altra anch'io e beh e ma gi sembra una nevicata sembra una nevicata la giovanna ciao se me la porti questa la vuoi allora oggi facciamo un mix tra il cucito creativo e il patchwork vi insegnerò innanzitutto che cos'è per me quando quando vi dico facciamo patchwork facciamo cucito creativo allora il cucito creativo per me e la mia difficoltà è proprio quella è quando giriamo rigiriamo devo fare le forze forme quando c'è una forma il patchwork per me è quando è piatto e adesso è un misto nel senso che non è proprio patchwork non è tecnica però è una cosa piatta ma non vi faccio ancora vedere che cos'è allora è bello perché io questa mattina ho detto facciamo questo faccio questo faccio questo faccio questo e adesso mi sto dimenticando di dove volevo cominciare dove prima leggo i messaggi ciao se vieni porta se vengo porta ma giovanna dove sei però non farmi fare chilometri ciao lara è un piacere passare un po di tempo in tua compagnia ti aspetto con vero piacere perugia puglia va bene poi mi hanno invitato dalla sicilia e mi hanno invitato da treviso però ci siete quindi le minacce hanno fatto bene quindi non vengo da nessuna parte ci troviamo così che tanto non si può allora e la eve anche allora la marilene è arrivata boh io sto qui e vi saluto ma agitata per cosa saremo una cinquantina a prendere le tue labbra per la curiosità è appunto vabbè è che l'errore dietro l'angolo il dimenticarsi qualcosa è dietro l'angolo e vabbè provate voi allora non vi voglio far vedere subito che cosa andremo a fare ma per esempio io vi insegnerò questa cosa qui che dite bellissima è una stoppa grigia bellissima allora come ho sistemato un pelucco come ho sistemato questa cosa allora noi abbiamo un cartamodello poi ve lo farò vedere se vabbè lo vedo là in fondo va bene poi faccio la mia passeggiatina e vado fino a prendere il cartamodello allora questa è una carta termoadesiva vuol dire che da un lato è quella che vedete adesso liscia nel lato interno è un po ruvida cosa vuol dire vuol dire che lì c'è la colla vuol dire che quando noi andiamo a stirare questa carta sullo rovescio vedete che qui è il rovescio del tessuto questo invece è il bello del tessuto la colla si scioglie la colla si scioglie e va a finire sul rovescio del tessuto questa colla questo tessuto adesivato io dico può andare ad essere applicato su un supporto questo sarà il nostro supporto potrà essere potrà essere applicato incollato sul nostro supporto e quindi effettivamente cose facili ma noi possiamo andare a disegnare disegnare col tessuto ogni tipo di forma che cosa facciamo allora noi abbiamo un cartamodello che può essere una mela un pezzo di cioccolato oppure una figura di cartone animato vado a ricalcare questa la carta termoadesiva è comunque abbastanza trasparente vado a ricalcare esattamente sul disegno non faccio nessun tipo di margine poi stiro ruvido contro rovescio e ho questo pezzo qui ma adesso lo facciamo perché io accendo il ferro da stiro vi giro io ti ho mandato un messaggio quando poi rispondi quando finisce pandemia vengo a trovarti ma ci siamo noi a farti ricordare tutto infatti io vi chiedo se avete bisogno di qualcosa poi vedo che ci sono altri messaggi ma non li sto guardando perché sono sono già su se avete bisogno di qualcosa se devo ripetere qualcosa perché qualcosa non è chiaro me lo dite io intanto vi giro perché ci mettiamo qua sul mio aspettate che qui c'è sempre cinema da fare sul mio piano di taglio allora questi sono pezzetti che avevo già pronti li mettiamo assieme ai pezzi già pronti perché io vedete che vi ho lasciato questi pezzi vabbè cosa sono questi qui indovinello cosa sono la item bond quella viola eleonora io uso praticamente sempre quella viola è da cucire è abbastanza resistente nel senso che tiene me un tiene molto la la colla allora questi sono guantini quindi diritto del mio tessuto quindi questo è il rovescio questa è la colla qui avevo disegnato i miei guantini qui ho disegnato un altro rettangolo un po un po ondulato qui avevo disegnato un trapezio andiamo sul piano stiro e li stiriamo abbiamo bisogno vedete io poi ho ritagliato tutto intorno con un leggero margine diciamo che è un millimetro due millimetri di margine è meglio se non vado a filo perché io vorrei che anche tutte le fibre una volta tagliato fossero almeno incollate allora ci spostiamo sul piano stiro e vado a incollare vedete praticamente adesso qui vedete che non si stacca certo adesso adesso se tiro si stacca perché anzi meno male che succede così perché io prima avevo sbagliato una cosa e ho potuto sollevare un attimo guanti di babbo natale babbo natale bene sono attentissime queste signore è vero sono i guanti di babbo natale colore ditemi un po se sapete che colore questo qui vediamo le più attente oggi è un quiz non è un non è una diretta allora questa è la faccia di babbo natale è un rosa ma lo uso doppio perché è talmente leggero guardate che differenza c'è è talmente leggero che si soprattutto visto che la faccia di babbo natale andrà su quello su quello scuro su quel blu si su quel cielo che noi abbiamo vedete che si vedrebbe diventerebbe un babbo natale con un colorito un po strano se lo metto così è meglio io lo vedo bene chiaramente io spero si veda si veda no 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 allora questo ok è questo colore mi avete detto avion mi avete detto ottagno ma il colore di chi questo colore qua che scemo che sono vabbè allora doppio adesso gli spilli me li ero messi perché io sono sicurissima che quando mi muovo poi faccio volare via tutto e quindi andiamo a stirare anche i guanti petroglio no non è neanche petroglio è il colore di chi donne e questo è un beige un marroncino e andiamo a stirare ecco qua ho stirato col vapore vi avevo detto che facevo la prova io riesco a stirare anche con la carta termoadesiva anche se c'è un minimo di vapore grange sì ma non è il colore di cuore di stoffa miranda bravissima ecco qua vabbè fine oggi c'è sembra che ho bevuto non è vero eh ragazze allora è il colore di cuore di stoffa adesso sentirete la sedia che si muove allora che cosa vado a fare vado a tagliare esattamente questa volta sulla striscia allora è più facile tagliare con la forbice sì è molto più facile tagliare con la forbice ma con la rotella si tagliano le fibre si non mi viene si tagliano le fibre del tessuto invece che spezzarle invece che sfibrarle appunto e quindi il lavoro vi verrà molto più 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 regolare più ben rifinito senza sfilacciamenti come si tiene questa rotella allora la rotella normale per fare patchwork vi ricordate cioè vi ricordate senz'altro la mettiamo così e tagliamo quindi la zigrinatura è qui noi facciamo così ma la rotella da patchwork è 45 mm questa la teniamo come una matita e vedete non so se vedete perché non so se sono in inquadratura ho guardato adesso e noi praticamente andiamo avanti e muoviamo solo il tessuto lo vedete in questo in questo modo aspettate che riprendiamo dovete fare un po di forza sì soprattutto con questa rotella che continuo a dire devo cambiare la lama e non la cambio mai però vedete che con la forbice sarei stata molto probabilmente nel primo al primo taglio e invece questa una volta che ci avete preso la mano è anche molto più veloce subito è molto più veloce no incredibilmente all'inizio vi sembrerà di fare molto prima con la forbice poi invece una volta che ci avete preso la mano e sarà molto molto più facile aspettate che li mettiamo tutti assieme i pezzi se no li li dimentichiamo poi una volta che lavorerete con con la rotella e ci prenderete la mano è molto molto più facile magari non fate come me non lavorate sul piano rotante che che poi veramente vi si vi si muove tutto però questi sono dettagli della diretta vedete io vado praticamente dritta con la rotella ma muovo il tessuto quelli naturalmente non sono scarti nel frattempo mi sembra di dovervi dire centocinquantamila cose però logicamente mi stanno sfuggendo mi verranno poi in mente a mano a mano che andiamo avanti con 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 il con il tutorial nel frattempo ho già ho già sparso il telefono in giro per per il tavolo voglio vedere se ci sono delle domande questo dal momento che una stoffa messa doppia mettiamoglielo lo stesso lo spillo perché se no tanto vale poi andremo quando andiamo a sistemare il tutto andremo a toglierli gli spilli e ci ricorderemo comunque che è doppio ma sapete se fate come me che appoggiate e poi non trovate più niente meglio ricordarselo e meglio aggiustare subito le cose allora vi ho girato perché perché intanto guardate il cielo stellato tipatica sono allora voi vi guardate il cielo stellato io vado a prendere il cartamodello così vedete e non è una novità ma poi vi spiego anche perché e intanto sto andando a prendere il mio supporto così adesso vi faccio vedere sono già arrivata allora il cartamodello è lo stesso babbo natale così facciamo la parure lo stesso babbo natale che abbiamo usato per il portapanettone è solo stampato su un A4 invece che su un A3 no no è solo stampato su un A3 invece che su un A4 perché? perché io questo babbo natale ce l'ho bisogno un po' grande allora bellissimo bellissimo batik di cuore di stoffa sono contenta avete risposto giusto allora cielo oppure cielo questo è un altro è un altro tessuto che mi piaceva perché anche lui assomiglia a un cielo ancora più dorato ancora più è un nero non è un blu scuro ma questo è un nero però mi piaceva farvi vedere che natalizio brillantinoso c'è anche questo tessuto allora applicato su una bosal quindi su un pezzo di bosal e adesso lo andiamo a fare questo lavoro allora devo prendere la bosal che aspettate che vi giro tutte le volte che vi giro io ho sempre paura di toccare da qualche parte e perdervi allora aspettate che vedete che questo è chiaramente un nero allora così io vi dico la verità il primo prototipo che non vi ho ancora fatto vedere perché così vi tengo sulle spine non l'avevo l'avevo semplicemente stirato sulla bosal questa bosal non è termoadesiva ma l'avevo stirato perché in questo caso si appiattisce bene comunque e l'ho lavorato così ho pensato che sarebbe stato molto molto più comodo e soprattutto più rilassante senza dover fare troppa attenzione a mettere un po' di questa colla istantanea perché in questo modo sentite un po' il rumore dello spray io vado ad appiccicare così e quando andrò a lavorare almeno so che la bosal ripeto già di per sé sta attaccato fa attrito però logicamente se gli do anche una mano con la colla io riesco di più a fare questa questa lavorazione sono un po' più tranquilla allora questo è il mio supporto quindi qui ci andrà logicamente avrete capito ci andrà appiccicato il nostro babbo natale questa la mettiamo via perché è quella che io andrò poi a decorare per farvi vedere un secondo passaggio perché oggi caramba perché questo è il nostro supporto che andremo ad utilizzare adesso e che cosa che cosa andremo a fare allora vi dicevo vi ricordate che vi dicevo meno male che la carta termoadesiva se ce ne accorgiamo subito ed effettivamente anche se ci accorgiamo un po' più il blu e il nero sono dei grunge metallizzati metallici sì sì sono sempre quelle praticamente vedete questi sono metallici e questi sono i grunge quelli normali quelli di di tantissime tonalità allora mi ero dimenticata che qui ci va tutto sotto il nostro babbo natale quindi aspettate che facciamo questo lavoro qui e andiamo in teoria dovrei avere preparato tutti i pezzi vi ricordo quando andate a lavorare sui cartamodelli anche se voi prendete un disegno di l'album da colorare dei vostri figli numeratevi sempre vedete 1,2,3,4 il naso 5 sono i baffi perché è vero che questo è semplice e sicuramente non ci saranno problemi per sistemare i pezzi però potrebbe anche essere che ci sono tanti pezzi simili e poi facciamo confusione allora andiamo a fare questo lavoro noi avevamo tagliato questo no non l'avevamo tagliato questo aspettate era l'unico che avevamo preparato stirato all'inizio lo sto tagliando velocissimamente allora i pezzi che voi vedete sul mio piano di taglio sono tutti ancora con la carta allora sono tutti ancora con la carta perché come vi avevo detto vedete che 10, 12 sono i guanti 9, 7 sono i pezzi dell'abito non succede niente se voi togliete la carta non vi troverete dei pezzi tutti che appiccicano guardate spero di essere in inquadratura però vedete voi praticamente togliete ma questo è che è lucido dove la colla si è trasferita comunque non appiccica vedete è vero che se non usate questi pezzi se non li usate subito se staccate poi togliete il numero quindi sarà un po' più difficile andare a capire lo metto così o lo metto così questo è il pezzo che ne so della targa in alto o della targa in basso insomma sono tutte quelle cose che è meglio controllare di volta in volta allora io praticamente vedete che piano piano vado a staccarmi allora quando sono in laboratorio da sola tranquilla magari musica accesa è il lavoro più facile di questa terra qui mi sembra sempre di dimenticarmi qualche pezzo ma allora questo è il corpo del babbo natale molto grande perché tanto adesso noi andremo a coprirlo con tutti gli altri pezzi che sono la barba vedete basta chiudere un po' se non se non vi si apre vedete qui l'ho fatto e non mi si è aperto vado nell'altra parte e un pezzo lo troverete dove il dove l'adesivo si taglia si toglie agevolmente allora questo devo toglierlo ma ricordarmi di togliere gli spilli e logicamente sistemarlo un po' bene e questo sarà da mettere così allora finché non ho stirato io tutti questi pezzi li posso togliere assolutamente tanto tanto tranquillamente ecco che mi è venuto in mente che vi devo dire una cosa guardate il mio babbo natale il mio babbo natale ha la coda al cappello che va verso la nostra destra dal momento che io ho usato questo cartamodello il mio cappello vedete che va verso la sinistra avrei dovuto ribaltare il disegno ma effettivamente sul babbo natale non ha senso a meno che voi vogliate esattamente fare questo lavoro che cosa potete fare allora vi fate una fotocopia specchiata oppure andate qui ricalcate il vostro cappello in questo modo voi probabilmente non lo vedete non vedete perché non c'è la birro che non scrive allora voi non vedete ma io neanche si è giusto vedete vi fate vabbè adesso sto andando a caso vi fate questo pezzo e ve lo ricalcate così e quindi poi una volta stirato sarà specchiato un'altra cosa che dobbiamo pensare guardate per esempio la barba la barba finisce così però io qui guardate gli ho fatto questi due specchiettini che vanno verso l'alto perché perché io qui sul mio cartamodello questo lavoro lo faccio cosa vuol dire vuol dire che la barba va fissata va nascosta sotto il mio festoncino del cappello vedete praticamente adesso apriamo questo così e se io vado a coprire vado a coprire sia il pezzetto della barba e quindi qui di sicuro non si sfilaccia niente e quindi qui di sicuro non si sfilaccia niente vado a coprire questo e anche questo è un interno eccolo qui quando noi andremo a cucire perché va cucito assolutamente questo questo lavoro quando noi andremo a cucire che cosa faremo partiremo a cucire da questo quindi questo l'interno del viso andremo a cucire tutta la barba ma partiremo da qui e arriveremo fino qui questo invece lo cuciremo tutto intero qui andremo a cucire da qui fino qui e poi questo pezzetto brutto sarà nascosto dal pompon quindi praticamente qui non ci serve cucire e sarà nascosto così andiamo avanti spero di essere in inquadratura perché nel frattempo io mi sono dimenticata di guardare quindi aspettate che guardiamo un po' più o meno ci siamo i baffi li mettiamo così il naso il naso rosso del babbo natale lo mettiamo così poi più lo mettiamo in alto più questo babbo natale avrà gli occhiettini piccoli nascosti dal mi mancano pezzi no nascosti dal dal naso dal cappello dalla fascia del cappello maniche allora guardate la manica questa si chiama sette era così guardate come sono andata sotto la barba e sotto al nostro polsino del del camicione di babbo natale come faccio a capire il il posizionamento linea retta linea retta qui vedete che c'è il tratteggio lo vedete si vede che qui c'è il tratteggio e qui c'era il tratteggio cosa vuol dire vuol dire che le parti che io mi ricalco tratteggiate vanno aspettate che vi faccio vedere sotto questa sarà una parte tratteggiata sotto qui andiamo a prendere il polsino e qui sarà un lato tratteggiato sotto il guantone il guantone di rochi il guantone sarà anche questo un pezzo tratteggiato qui e poi per tutto il resto terrà la nostra targhetta e lo sistemate aiuto mi si sta spostando tutto lo sistemate così stavo tribulando un po' semplicemente perché vorrei aspettate che questo qui non mi piace tanto vorrei dargli cercare di dargli ecco una ho fatto peggio ok una forma un po' più da guanto però vedete se io questa targhetta beige la lascio così qui ho dei buchi e sono tutti i pezzi che dovrei andare a cucire allora che cosa facciamo cerchiamo di nascondere un po' il tutto queste sono tutte cose che devono piacere a voi perché se voi volete invece andare a creare tanti particolari fate tanti buchetti e quindi tanti pezzi che dovrete che dovrete comunque cucire non sono andata a centrare il babbo natale perché comunque eventualmente se fosse una disparità adesso più o meno è in centro ma se ci fosse eventualmente una disparità che cosa vado a fare vado a fare una stella vado a fare un disegno vado a fare un cuore quindi cerco di centrare il mio babbo natale ricordatevi però comunque di centrarlo più o meno di lasciare 5 centimetri di qui e 5 centimetri di qui perché anche qui andremo a mettere il legno delle finestre perché questo è un babbo natale che guarda fuori dalla vostra finestra di casa per accogliere gli ospiti pensate voi che fantasia che mi viene allora qui anche voglio andare a formare allora logicamente in base al cartamodello che avete se vedete che ci sono delle cose che non vi piacciono potete vedete andare a rifilare qui c'era il guanto che finiva qui era bruttino potete andare a rifilare allora qui si è spostato devo sistemare un po' questo in teoria è il nostro babbo natale che io peluco rosso che io dovrei andare a stirare che cosa adesso vi giro così non guardate ma che bello laiole ma quanto mi piace tantissimo brave grazie allora che cosa volevo dirvi però io ho ricevuto tante tante richieste per quanto riguarda la carta termoadesiva e quindi di nuovo il punto festone quindi dopo vi farò vedere un po' anche come si cuce il punto festone e tutto quanto intanto voglio sistemare anche un po' questo poi vi faccio vedere la differenza perché mi sembra che sono andata esagerando un po' con i polsini del babbo natale però che cosa che cosa si può fare possiamo tranquillamente ve lo faccio vedere finito ve lo faccio vedere finito eccoci qua questo è il babbo natale che andremo a fare ma che cosa che cosa possiamo fare possiamo fare il naso non con la carta adesiva ma il naso doppiato quindi fare un bel naso cicciotto il pom pom possiamo farlo o con un campanellino di quelli che suonano oppure davvero con la lana i polsini possiamo farli con sempre con la carta termoadesiva ma magari con un un tessuto di flanella perché così risultano pelosi i baffi possiamo farli ci sono ancora i baffi possiamo farli doppiati perché così almeno fanno un po' di ciccione allora io non ho avuto tempo di fare tutte queste cose ho fatto prima fare il mio babbo natale tutto con la carta termoadesiva perché adesso tra parentesi se qualcuno mi dice che ore sono te comprarti un orologio no se qualcuno mi dice che ore sono io so più o meno come andare avanti a fare le cose per me è stato molto più facile e veloce fare solo con la carta termoadesiva in modo da l'altra volta avevamo fatto il doppiato questa volta facciamo la termoadesiva domani mattina sul negozio delle coperte devo ancora disegnarlo facciamo l'appliquick quindi cercare di tenere separati un po' tutte queste tecniche logicamente poi voi alla fine potete fare il minestrone che volete e quindi potete andare a mischiare tutte le tecniche non so se è per mia limite mentale ma io raramente mischio le tecniche però effettivamente vedo dei lavori con la vostra creatività meravigliosi allora vi giro 14 e 30 va bene allora io vi giro che cosa andiamo a fare andiamo a controllare bene ho sistemato tutto aspetta che il naso lo mettiamo un po' di qua un po' di là facciamo disfiamo cerchiamo di vedere che sia tutto che sia tutto sistemato come lo vogliamo noi e con il ferro da stiro vi ripeto io sto usando anche il vapore con il ferro da stiro andiamo a non stirare come facciamo di solito perché dobbiamo dare il tempo alla colla di sciogliersi e quindi andiamo tutto a posto andiamo a tamponare vedete se noi lasciamo il ferro che magari almeno stirare da in piedi ma vabbè nata stanca allora se noi andiamo a fare questo lavoro e tamponiamo una volta che poi sappiamo che comunque tutti i pezzi sono attaccati e non si staccano più possiamo comunque andare a stirare allora tenete sempre conto dei soliti 5 6 7 secondi non esagerate tenete conto del vostro calore del vostro ferro da stirro non andate a rendere bruciacchiato e soprattutto i tessuti chiari fate delle prove logicamente una volta che il tessuto è così non si stacca più adesso vedete che si stacca tutto allora ci manca questo poi che cosa facciamo vi ricordate che io avevo il supporto aspettate che spostiamo un po' Gianna scusami in ritardo ma figuriamoci se dovete chiedere scusa bellissima la stoffa dietro di te e anche il babbo grazie Silvana allora vi ricordate che noi avevamo fatto questa roba qui quindi il mio supporto con la carta che avevamo incollato e stirato e lo mettiamo qui così almeno lo vedete bene prima di fare questo lavoro quindi su quello lì che non era ancora ben sistemato andrebbero messe le wonder clip in modo che anche lavorando tiro su tiro giù magari mi capita solo di prendere il pezzetto di tessuto fisso le wonder clip ai laterali metto il legno sotto e metto il legno sopra poi vado a sistemarmi tutto il mio babbo natale e poi chissà dove ma sono sicurissima che io ho anche i laterali che aspettate una cosa aspettate un attimo devono essere da 5 centimetri probabilmente sono questi aspettate che vediamo come vado ad adesivare questi allora vado a prendere la misura della base la misura dell'altezza ci disegno sulla carta termoadesiva proprio dei rettangoli con le misure desiderate e poi vado di nuovo tagliare stirare tutto il mio tutto i miei tessuti ecco questo invece l'ho stirato male aspettate che facciamo questo lavoro qui perché non ha non ha preso adesso quando come succede a me non avete stirato abbastanza bene quindi il tessuto non si è attaccato alla colla voi stirate poi però dovete aspettare che si asciughi un po' che si raffreddi perché se no staccate di nuovo tutto vi rimane vi rimane tutta una schifezza nelle mani e praticamente come se fosse una colla liquida vi rimane e poi vi bruciate anche allora questo è non so il montante della porta logicamente qui se volete potete andare a tagliare non vedete se volete potete andare a tagliare prima se no chiaramente voi vedete lo scalino sistemate anche questo così in questo modo e stirate una volta che voi stirate anche questo è abbiamo praticamente fatto la stessa cosa che abbiamo fatto sul nostro babbo natale a destra e adesso andiamo a fare la stessa cosa a sinistra vi ripeto potete mettere la stella cometa potete mettere delle stelle potete mettere anche dei fiocchi di neve potete abbellire il vostro babbo come volete voi e anche questo lo mettiamo così e lo mettiamo così questo è un po' da rifilare aspettate che lo mettiamo da questa parte perché non l'avevo tagliato bene e quindi lo mettiamo qui che sarà il nostro bordo quindi chi se ne frega anche se se non è rifilato giusto anche qui aspettate che vi faccio vedere anche qui se non è rifilato giusto tanto poi va coperto l'effetto finale è davvero bello il fondo dietro il babbo e il tronco legno stile country mi piace tanto ma guardate io non so neanche come ho fatto a farmi venire in mente questa cosa sapete che quando soprattutto quando non vi rispondo al telefono è perché sto facendo queste prove e questa volta mi è venuto da finalmente da fare un babbo alla finestra ma poi c'è la sorpresa finale allora perché perché adesso finalmente spero no non ho ancora sistemato la macchina da cucire ma intanto accendo e sistemo anche il mio punto festone aspettate ok fatto perché perché adesso logicamente quello che vi dicevo adesso vi giro però è quello che vi dice guerrina benvenuta che ieri sera poi alla fine ho fatto questo dovevo tutto festonarlo e mi sono portata sopra la macchina da cucire che poi l'ho fatto stamattina perché poi ieri sera sono un po' crollata senza farlo però io l'altro che vi avevo fatto vedere che ho già perso no l'ho trovato ce l'ho l'ho praticamente festonato tutto tranne un piccolissimo pezzo perché vi voglio far vedere aspettate che devo fare un'altra cosa che io non ci avevo pensato un fenomeno sono vabbè fa niente aspettate che ci sono sto togliendo tutte le wonder clip vedete ve l'avevo detto che poi dopo ogni tanto mi perdo via e facevo delle cose ho tolto le wonder clip e per l'effetto sorpresa finale non dovevo toglierle aspettate che qui non è questa merita questa merita un'occhiata allora fai le cose di corsa fai le cose in fretta guardate non ho tolto la carta qui allora fortunatamente vedete non era ancora ben asciutto e quindi piano 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 vedete no ma è bello guardare i tuoi video perché così ci fai vedere anche gli errori ecco appunto e quindi fortunatamente non è successo quel chissà quel disastro ecco adesso ce la facciamo e vedevo che era staccato e dicevo ma strano sono stata qui l'avevo staccato sono stata un'ora e mezza a stirare come è possibile beh cerchiamo di farci furbi allora adesso vi giro perché vi voglio spiegare ancora una volta il punto festone allora vi giro subito nella macchina nella macchina da cucire allora punto festone aspettate che prendiamo questo che è il mio il mio guanto allora il punto festone sulle macchine da cucire aspettate che non mi ricordo mai il verso è così lo vedete io e Giotto siamo proprio perché non so neanche se mi vedete comunque io adesso lo sto disegnando a favore di telecamera ma forse non avete visto allora il punto festone l'ho trovato come questa scaletta senza una gamba allora io vado a cercare sulla cartellina della mia macchina per cucire il numero del punto festone poi di solito metto larghezza no altezza del punto due e mezzo larghezza del punto due e mezzo mi piace renderlo un po' quadratino ricordatevi che noi andremo a cucire sulla bosal quindi su un comunque un tipo di imbottitura che sia la bosal che sia l'imbottitura per quilt che rallenta un po' la macchina rallenta il trasporto se volete dare un effetto molto molto più regolare potete mettere due e mezzo e tre nel senso che il punto lo dovete allargare un po' perché se no tende a rimpicciolirsi un po' allora adesso ho il filo marrone infilato andiamo a fare questa questa la targhetta dove poi andremo a scrivere sopra buon natale allora cominciamo da qui non facciamo l'avanti e indietro perché tanto il punto festone è un punto che si ripete si ripete quindi il mio punto festone sulla mia macchina è comprende cinque punti cinque movimenti quindi vi sfido a disfare il punto festone tanto poi il filo comunque lo passiamo dietro allora partiamo da qui andiamo fino qui poi di nuovo partiamo da qui e facciamo tutto il giro fino qui facile? sì scomodo? qui? sì perché? perché dobbiamo piano 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 arrotolare perché comunque vedete qui deve andare sotto la macchina da cucire sistema anzi vi sposto subito aspettate che guardiamo come siamo messe mi devo alzare perché ok spero si veda spero di non toccare niente allora senza fretta il punto io lo metto molto lento allora vado a abbassare con la manovella il il mio ago lo metto proprio nel nel punto di partenza del mio lavoro e proprio sulla linea di divisione tra il tessuto che devo applicare e la mia base in questo caso è il bianco della targhetta bianca dove ci va sopra poi il foglio diciamo con su scritto babbo natale allora utilizzando la bosal io vado a prendere un ago semplicissimo perché non è una un'imbottitura talmente bella da usare talmente morbida che non abbiamo difficoltà di aghi particolari se non è questo il caso ma se invece gli strati della adesso vi giro se invece gli strati di applicazione sono tanti 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 ma proprio come come tessuto e non come imbottitura sotto ma soprattutto quando ci sono tanti strati di tessuto e tanti strati logicamente di colla mettiamo un ago da pelle perché se no ci salterebbe un po' il punto diventano oltre al punto molto schematico ci verrebbero anche i punti in obliquo che stanno proprio male allora con qualsiasi macchina voi facciate il punto festone ago giù abbasso il piedino vi prego i primi punti fateli a mano allora la mia macchina fa guardate quanta polvere c'ha la mia macchina uno va avanti due va indietro tre di nuovo va avanti quattro va dentro vedete sta già applicando sta già prendendo il mio pezzo marroncino cinque torna fuori allora fatelo senza senza vergogna contate uno due tre quattro cinque andiamo lentissimi uno due tre quattro cinque uno due tre quattro cinque fatelo proprio questo lavoro è da fare punto dopo punto in una maniera molto 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 lenta perché dovete imparare bene allora aspettate che andiamo a vedere poi i baffi poi facciamo allora adesso vi faccio questo questo lato allora questo lato non ha difficoltà nel senso che logicamente vedete che io piano 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 do una leggera curvatura per fare le curve il problema per esempio per quello che dopo che vi ho detto dopo facciamo i baffi il problema sussiste quando ci sono delle delle curve degli spigoli delle curve strette potrebbero essere anche solo le curve dei dei nostri baffi allora sto andando un po' più forte perché così almeno approfittiamo e finiamo un po' in fretta perché sennò veramente vedete io sto curvando poco poco sono delle curve molto dolci riesco a farlo quando mi avvicino vado a ad andare un po' più lenta io direi che ok 4 e 5 alzo e tiro via tutto il mio lavoro io generalmente non faccio né un avanti indietro e se non perché ho veramente tanta 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 fretta lascio il filo quindi questo filo lo infilo con un ago lo passo sul retro e poi logicamente adesso qui con questa imbottitura spessa non vale assolutamente la pena di di legarlo con niente perché tanto non va da nessuna parte se no gli faccio un piccolo nodino e taglio abbastanza vicino allora vedete aspettate che mi gire vado a vedere dove eccolo qui questo è il punto festone abbastanza regolare facciate fate le cose con molta calma perché è scomodo perché questo 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 lavoro è proprio solo scomodo perché ecco io adesso ho il bianco volevo forse mettere un grigio per i baffi ma vabbè vi farei andare troppo troppo a cercare e quindi infiliamo speriamo di vedere perché io non ci vedo più niente adesso siamo qui 8 ore perché non vedo che ridere sto andando a memoria ok allora forse sarebbe stato il caso di lavorare con un grigio perché vedete che qui aspettate che non so se si vede qui si vede il bianco si vedrà forse qui tono su tono si vedrà un po' poco però va bene lo stesso l'idea era comunque di farvi vedere i baffi quindi parto da qui faccio la curva quindi qui c'è uno spigolo a cui prestare attenzione faccio la curva qui c'è un un angolino e così via quindi ago giù aspettate che qui mi crolla tutto ago giù quando vi dà fastidio mettete nel wonder clip logicamente abbiamo adesivato sì certo solo al centro vabbè voi sarete più precise allora vado a fare il primo punto magari dovete ago giù aspettate ok e dovete mettere giù il piedino allora vado a fare il primo punto cosa mi sta facendo questo punto va avanti va benissimo poi va dentro e poi torna indietro a questo punto io ho fatto il mio primo punto festone formato dai cinque passaggi adesso posso andare avanti lo faccio un po' lento perché anche qui ho la curva ma è una curva a cui devo prestare un po' più di attenzione rispetto a questa che era molto più dolce per esempio io sto facendo il quattro ho fatto il cinque adesso posso alzare e girare cambiare un attimo la direzione vado avanti ancora di due o tre punti eccoci adesso se andassi dritta mi andrei non so se è giusto a tagliare anche questa punta invece ho fatto quattro cinque sono ritornata sul bordo posso alzare l'ago è rimasto giù e posso dirigermi da un'altra parte logicamente dopo facciamo anche il naso che è un po' più bisogna fare un po' più di attenzione allora io sto arrivando so che vedete malissimo pochissimo ma mi manca un punto e quindi faccio quattro e cinque a questo punto io alzo e giro completamente il telefono è andato cioè qui disastri su disastri e vado di nuovo a questo punto a fare il mio punto festone su questa curva forse qui guardate vedete piano 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 ogni punto giro pochissimo e riesco comunque a fare la curva senza non dover fare gli spicchiettini dobbiamo vedere secondo me ci stiamo riuscendo anche perché la furba ha fatto bianco su bianco quindi le piccole imperfezioni non si vedono neanche allora sono in direzione e quindi devo andare adesso contiamo uno due tre quattro va dentro cinque va fuori ancora uno ce ne sta non sapete se ce ne sta adesso vi leggo alzate sbirciate e secondo me ce ne stanno ancora due uno due va indietro tre va avanti tre quattro va dentro cinque torna in posizione io ne farei ancora uno uno due tre quattro va dentro cinque va fuori adesso alzo e vedete cambio la direzione allora mi spiace ma devo andare lucia ci vediamo questa sera dopo il blocco di martina il punto festone non ha più segreti con tutti quegli angoli allora andiamo avanti avete fatto un buonissimo allenamento in questi mesi siete state tutte bravissime poi la guerrina non è stata in ritardo di un blocco quindi complimenti e grazie per seguirci con tutto questo affetto e questa simpatia intanto io sto facendo la mia curva vedete che giro 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 così sono quasi arrivata alla punta non ci ho pensato dovevamo fare i baffi neri al babbo natale perché così vi davate di più però va bene lo stesso allora quattro cinque ancora uno due tre quattro cinque io ne farò ancora uno uno due va indietro tre va avanti quattro va dentro e cinque va fuori ok adesso giro completamente vedete fosse un un tessuto non imbottito si farebbe aspettate che non vedo niente si farebbe molto molto più in fretta questi giri queste queste rotazioni così invece bisogna sempre fare sul tubone perché se no ci da fastidio perché se no insomma è abbastanza rigida questa bosa però ce la si fa state tranquille adesso siete pronte a ridere di nuovo perché vi avevo detto che vi avrei fatto il naso ma il naso lo voglio fare di rosso quindi cioè il pericolo è il mio mestiere cominciamo ecco qua ci siamo dentro fuori ok quindi tentiamo di di lavorare e di infilare il filo rosso allora sto lavorando con la bosal il sotto del mio adesso vi faccio vedere ce l'ho marrone come il primo marrone ho preso dentro un pezzo di stoffa come il primo marrone che avevo che avevo usato insomma io non sto a cambiare non ho il rosso dove l'ho messo ah sì allora non sto a cambiare la bobina sotto assolutamente metto un bianco un nero probabilmente se avessi fatto un babbo natale questo filo se avessi fatto un babbo natale su un tessuto bianco probabilmente avrei messo rosso su rosso perché se no devo stare in silenzio se no non riesco aspettate ok perché se no non avrei visto lo stacco avrei visto il filo di sotto accidenti sono arrivata ora dopo riguardo vabbè meriti Monica guarda punto festone su questo babbo natale abbiamo in fretta non ti sei persa granché perché comunque sono cose che vi abbiamo spiegato tantissime volte la carta termoadesiva il punto come tagliare i pezzi adesso stiamo facendo il punto festone su questo babbo natale ma c'è una sorpresa finale quindi non scappate allora devo farlo su un po' a tubo qui come dico l'ho detto 150 volte oggi è difficile no è solo scomodo e a questo punto vado a fare ago giù piedino giù vado a con la con la manovella a vedere come sono messa torna indietro va avanti va dentro così e torna fuori nel momento in cui torna fuori quindi nel momento in cui ha fatto dentro fuori e sono di nuovo a filo io posso alzare e cambiare la direzione e continuare a fare un buon punto festone un bel punto festone se giro quando il mio punto che è formato da cinque passi non era finito faccio un pasticcetto poi è vero che non sempre bisogna disfare però insomma guardate quattro cinque io se andassi dritta andrei a fare un punto festone fino qui e invece piano piano di poco giro e faccio un punto uno due tre quattro dentro cinque fuori di nuovo mi giro adesso sto esagerando e due punti potevate farli uno due tre quattro cinque poi di nuovo alzo e faccio così e così via con tanta pazienza senza fretta senza voglia di saltare i passaggi perché se saltate i passaggi ciao sono arrivata tardissimo fa niente benvenuta allo stesso se saltate i passaggi vi verrebbe tutto un naso per esempio stiamo facendo il naso tutto a spigoli invece se cambiate direzione soprattutto sui laterali dove il naso è più schiacciato se cambiate direzione tutte le volte che finisce il vostro blocco da cinque punti guardate che fate bene attenzione perché qualche macchina da cucire il punto festone ce l'ha addirittura in sette passaggi quindi niente voi dovete dovete vedere che il vostro punto è finito quindi il modulo da cinque da sette qualche macchina anche da tre sia finito adesso guardate sono già arrivata quattro cinque sono già arrivata nel punto in cui devo girare vedete che non sempre dobbiamo girare spessissimo giro ancora uno uno due tre quattro cinque e giro qui giro un po' di più prima era millimetrico adesso giro un po' più velocemente poi di nuovo questo dà fastidio uno due tre quattro cinque vado dentro giro di nuovo uno due tre quattro cinque ecco qua ed ecco qua finito alzo tutto poi logicamente i fili li passate e se volete fate un nodino se no li passate semplicemente e non non vi assicuro che non li perderete perché c'è l'effetto sorpresa adesso allora come finiamo questo logicamente noi abbiamo bisogno di mettere un retro potrebbe essere questo potrebbe essere un tessuto solo che ripara che protegge ricordatevi punto festone anche qui e anche in questo pezzetto qui perché vedete che qui tra l'altro non è stato stirato bene se no si staccherebbe quindi il punto festone anche fino qui cosa dobbiamo andare a fare logicamente andiamo dobbiamo andare a rifinire come rifiniamo sempre con il nostro binding oramai lo sappiamo fare benissimo il retro potrebbe essere rifinito con un pannello colorato oppure rifinito con una stoffa tanto colorata che ne so gli mettete scritto buon natale e lo girate un giorno su un giorno no io questo l'ho considerato come se fosse un fuori porta quindi per augurare buon natale a chi non può venire a trovarvi e adesso aspettate che vi giro perché allora aspettate un secondo solo che voglio sistemare un attimo la wonder clip così ok perché questo adesso vi giro perché questo è il nostro babbo natale praticamente vedete che dopo controlliamo bene ma è praticamente tutto tutto festonato e qui in alto ma adesso lo facciamo questo questo pezzetto o non ho neanche aspettate ho bisogno assolutamente una squadretta per farvi vedere una cosa che vabbè trovare una squadretta qui è come trovare allora perché perché che cosa vado a fare vado a prendere come punto di riferimento questo questo stacco quindi da qui a qui che è di due pollici e gli stessi due pollici che sono così devo andare a fissare prendendo come come riferimento sempre i miei due pollici devo andare a fissare questa roba qui anche per appendere appendiamo come con un bastoncino con una cordicella come volete voi mi manca un passaggio se no dobbiamo andare a creare questo e nella diretta prima di iniziare no di quest'oggi di questa di oggi a mezzogiorno aspettate che io sicuramente avevo il pezzo allora tre ci sono forse è questo esatto allora un rettangolo lo dividiamo lo pieghiamo in due e vado a fare una cucitura in verticale vi giro cerchiamo di fare in fretta perché questo comunque è un passaggio che voglio farvi vedere perché c'è sempre qualche lo cuccio di rosso no tanto poi dopo devo cambiarlo vabbè c'è sempre qualche signora nuova allora logicamente metto logicamente metto la mia cucitura dritta il più a destra possibile perché non voglio mangiare troppo di questo di questo di questo orlino no e vado a fare la mia cucitura sul lato aperto in questo modo non l'ho fatto varrebbe la pena di fare anche un avanti e indietro in modo da bloccare questa cucitura e non e non farla scappare tolgo bene i fili bacchetta che sono sicura che c'è chissà che fine gli ho fatto fare qui e il sono in fenomeno ma c'era trovato trovato adesso vi giro anzi proviamo a vedere se sono capaci di farvelo qui sotto alla vediamo eh allora praticamente faccio questo lavoro inserisco faccio ok ce la faccio vedete faccio scivolare e a questo punto sono arrivata non era un'inquadratura probabilmente lo rifacciamo allora proviamo a fare così adesso l'ho rivolto di nuovo vorrei vedere se sono in inquadratura o no allora facciamo questo lavoro vedete piano 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 vedete adesso l'ho rivoltato siamo al punto di partenza non so se se ci siamo sì forse ci siamo e di nuovo vado non devo spingere tanto devo far scivolare il tessuto verso l'alto e abbiamo rivoltato allora che cosa andiamo a fare adesso posso guardarvi che cosa andiamo a fare andiamo a stirare bene bene senza fare quelle brutte piegoline che non ci piacciono e andiamo a fare una ribattitura sia a destra che a sinistra non la faccio perché ho il filo rosso e se no dobbiamo stare ancora a ridere perché non vedo il buco del lago e tutto quanto però ne ho fatti quattro quindi due per il babbo natale che voi vedete qui quindi vedete qui è il il modo di appendere il babbo natale e adesso mi giro sono arrivata recupererò altro che se recupererai allora guarda però allora questo è il babbo natale vi avevo detto che cosa ci mettiamo dietro dietro ci mettiamo un tessuto così un tessuto sfumato il tessuto come quello più scuro che abbiamo usato oppure ci facciamo anche le renne così veramente facciamo un giorno così un giorno così oppure le renne per tutto l'anno e il giorno di natale sono il buon natale quindi abbiamo bisogno tutto questo per dirvi che cosa ah che brutto questo tutto questo per dirvi che cosa che qui abbiamo bisogno questi gancetti che poi una volta che saranno fissati col binding saranno messi così e il binding piano 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 facendo attenzionissima quando andremo a fare questo lato dovremo fare attenzione anche a queste che saranno poi quelle che appendono le nostre renne allora noi andremo a lavorare sul binding sul lato del babbo natale ma è indifferente da una parte o dall'altra noi andremo a lavorare sul lato del binding del babbo natale quando noi andremo a rivoltare il binding dovremo andare a fare attenzione che a mano dovremo andare a inserire anche questi questi gancetti non si mettono di qui perché se no voi vedreste il babbo natale con due gancetti qui che non stanno per niente bene se volete prima potete dare una piccola cucitura prima ancora del binding in modo che qui e qui li fissiamo non li perderemo e soprattutto al momento del binding non dovremo più fare nessunissima attenzione a queste a questa anche questi gancetti per appendere io farei questo lavoro allora perché tanto non ce ne frega niente del colore perché sarà un interno allora noi facciamo così io devo allora una volta che ho i due pannelli uguali di dimensioni vado a rifilare bene con la bosa le facilissimo perché io lo sistemo bene 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 e vedete che chiaramente i due lati sono belli sono belli precisi allora andiamo a fare questo lavoro di metto la bosa all'interno della macchina da cucire sotto la macchina da cucire sono spessi è un è un pezzo da doppio quindi è più o meno un'altezza di un centimetro ma adesso si rompe tutto ma effettivamente io prima non avevo cambiato l'ago quindi arrivo qui stacco bene quindi faccio questa cucitura in modo da fissarmi ok da fissarmi il gancetto delle renne tolgo potevo fare un avanti e indietro non l'ho fatto ma tanto adesso andiamo subito a coprirlo con il binding stessa cosa la faccio qui in questo modo vedete che è poi cade tutto è solo un po' scomodo ma assolutamente io non ho cambiato l'ago ho sempre usato un ago piccolo che uso nel patchwork quindi assolutamente non abbiamo problema la bosa è proprio comoda da usare comoda facile scomoda si perché comunque si vede che è un pezzo rigido ecco qua quindi quando noi andremo a fare il nostro binding noi andremo a cucire il binding sul lato del babbo natale quando noi andremo a ribatterlo abbiamo già fissato i nostri gancettini saranno comunque questa questa brutta cucitura che è andata tutta storta sarà da coprire con il binding allora binding nelle coperte io faccio adesso aspettate che questo era una prova che mi ero fatta vedete nelle coperte ho fatto un disastro aspettate cosa ho fatto così ok nelle coperte io ho lavorato con con di solito lavoro con il due pollici e un quarto aspettate che ho fatto un disastro anche col cellulare di solito lavoro con il binding da due pollici e un quarto l'ho fatto da due pollici e mezzo perché vedete che voglio che mi copra bene la cucitura che abbiamo fatto quindi gli ho dato un quarto di pollice più grande non mi viene in mente niente mi piace tantissimo sono contenta marilena abbiamo bisogno di queste cose un po' chiamiamole leggere che poi non è vero che sono leggere perché perché insomma sono cose carine di natale che ci che ci fanno star bene allora volevo staccare questo non mi ricordo più no bene il binding l'ho già fatto e l'ho unito in sbieco quindi volevo esclusivamente farvi vedere aspettate che prendo il binding volevo adesso ve lo spiego un attimo volevo farvi vedere il almeno un angolo del binding lo so che ve l'ho fatto vedere 8000 volte però c'è sempre qualche persona nuova qualche signora nuova allora due fette alte due pollici e un quarto per tutta l'altezza del tessuto cosa abbiamo fatto qui l'abbiamo unite in sbieco se qualcuna vedete l'unione se qualcuna di voi non sa ancora questa cosa l'abbiamo mi sembra appena fatta non so se la settimana scorsa sul calendario dell'avvento l'avevamo fatta comunque cosa vi sto inquadrando scusatemi che cosa vi sto inquadrando sapete che cosa è successo che ho toccato aspettate che ecco adesso ci sono meno male che c'ho il telefono che ogni tanto guardo ma non c'era niente di compromettente il distante ma uniti è finito e quindi non ci sono blocchi che pulire avevo appena pulito quindi insomma era abbastanza anche sistemato non ho avuto più di tanta vergogna però vabbè allora una volta che io questa questa parte da due pollici e un quarto unita due fette unite nello sbieco io piego e stiro bene benissimo ripeto sempre tutte le volte tolgono i cattivi pensieri almeno per me cucire così cucire così tolgono i cattivi pensieri pensate anche solo se lo mettete che non so sul vostro portone d'entrata o sul vostro cancello le persone che passano perché vanno da qualche parte oppure quelle che possono andare a lavorare vedono il babbo natale un sorriso scappa quindi secondo me fa un po' del bene a tutti allora vi faccio vedere un angolo io parto sempre generalmente sia per le coperte che per questi progetti dal lato più lungo ma non è non è indispensabile è un un'abitudine che ho no non vado a cucire qui ma vado a cucire tipo qui in questo modo allora vi giro sperando di non di non girarvi cioè come prima così allora andiamo a sistemare il nostro il nostro babbo natale il nostro pezzettone qui avevo vi ricordate il 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 gancetto che c'era nelle renne la bosal si può usare per un pannello patchwork sì perché questo poi alla fine è un pannello io anche le cose da appendere questo effettivamente è una cosa da appendere la bosal per esempio voi vedete questo che è la mia il mio cestino per le attrezzature qui dentro c'è la bosal vedete che rimane un po' una scatolina rigida nel portapanettone avevo messo la bosal perché anche lì volevo una scatolina rigida tutte le cose che vogliamo la uso per tutte le cose in cui voglio una forma voglio mantenere una forma particolare certo se invece voglio fare un sacchetto per la biancheria assolutamente non voglio che sia squadrato no? e quindi non si mette la bosal allora distanza di un quarto di pollice quindi la nostra distanza patchwork il brutto quindi il non rifinito del binding lo mettiamo qui in fondo mi dite per piacere l'ora e poi signore mi dite in quante di voi avete condiviso il video nel frattempo o devo dirvelo tutte le volte vi prego condividete il video che ho capito vabbè condividete il video per piacere adesso aspetto si è già fatto si è già fatto hai attivato la camera frontale si non so che cosa ho toccato allora a filo io ho devo fare attenzione perché ho lo strato delle renne lo strato del babbo natale tessuti e bosal e i due strati del 14 e 12 dobbiamo fare in frettissima e i due strati del del binding arriviamo fino all'angolo grazie Maria Cristina e vedete che piano 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 non mi da grazie Antonella ha fatto aspettate che vedete che non è difficile ma è scomodo perché adesso io devo andare fino nell'angolo ed è tutto rigido non si sposta niente quindi sono io che devo spostare le cose di fronte alla macchina dietro alla macchina da cucire allora faccio sempre attenzione devo prendere tutti e tre gli strati quindi con calma e vado fino al mio angolo in questo modo vado alla fine non vado proprio fino alla fine cerco di fermarmi a un quarto di pollice prima del mio del del mio lato inferiore stacco e giro completamente io ho tutto il binding sulla destra lo porto in alto e cerco di formare un angolo 45 gradi e poi mi porto verso il basso logicamente voi vi sposterete magari sul tavolo e sarete un po' più sul piatto e ricominciate a fare questa cucitura certo che più fate bene non so se si dice così questa cucitura e più anche l'angolo vi si rivolterà bene con calma con insomma facendo molta molta attenzione facendo molta attenzione a far combaciare i due strati quindi se volete potete vabbè lo sapete che adesso possiamo lasciare perché tanto dobbiamo fare tutto il giro l'unione del binding di solito andiamo a farla sto tirando giù tutto l'unione del binding andiamo a farla con con lo sbieco ma anche lì vi ho fatto un po' di video tutorial quindi al limite facciamo mente locale di dove ho spiegato a fare lo sbieco dobbiamo rivoltarlo poi cucire a mano con un punto nascosto logicamente qui non abbiamo non abbiamo scelta il filo sarà marrone adesso però posso toglierlo perché a questo punto io vi posso far vedere che allora se io apro così e cucio così e poi cucio così vedete che vabbè io ho memoria perché non lo so però vedete che il mio binding è stato è stato cucito bene è stato piegato bene qui l'inizio del binding va logicamente a coprire il gancetto messo giusto sì delle renne qui magari poi vado a fare anche una piccola cucitura nascosta in modo che questo gancetto stia piatto qui solito il bastoncino di legno il bastoncino di cannella magari un filo con su tutte le lucine colorate insomma vedete voi e quindi potete fare o le renne logicamente in questo lato si vedrà un po' la cucitura cercate di farla il meglio possibile oppure il babbo natale condividete il video c'è un kit con con tutto il materiale per fare i due strati e logicamente io l'ho fatto così però voi potete fare anche dei minuscoli dei minuscoli medaglioni da mettere sull'albero e potete fare tutto quello che volete e io invece adesso vado a tagliare i kit per il calendario dell'avvento perché domani devono partire quelli del secondo gruppo e basta ci sono domande le imbottiture avete visto le imbottiture volete vederle ancora no c'è anche questa vedete quando vi dico perché in diretta può sempre capitare di tutto ecco pure cioè cambiare l'inquadratura della camera pensate se vi dicevo no perché io faccio tutto da sola e vi giravo e c'erano mille persone che cucivano per me e vabbè e quindi niente questa sera se non faccio come ieri ci rivediamo sul negozio delle coperte perché vi mando un saluto magari vi dico vabbè io il babbo natale l'ho finito cioè si spererebbe visto che devo ancora finire il progetto della settimana scorsa e grazie Lara sei stata chiarissima grazie Maria Cristina ci vediamo nel calendario dell'avvento e la Marilena che abbraccia il cuore io abbraccio voi grazie ricordatevi domani sul negozio delle coperte il progetto giapponese io non ho più inizio a dirvi se non ci sono domande grazie ciao la Marilena bello mi piacciono tutti e due i lati stupende le renne bravissime aspettate le renne che sicuramente ho qui sì la renna è questa il cartamodello della renna ma sono due renne che si guardano c'è nel senso che si guardano sono due renne simmetriche quindi ve l'ho spiegato all'inizio della diretta che cosa fate utilizzate il cartamodello così poi andate a ricalcare tutto il cartamodello dall'altra parte quindi sulla carta termodesiva ne metterete una così e una così in modo che il guantino sia di una così e di una così ho fatto anche il balletto grazie ciao grazie a voi buona giornata buona serata condividete il video e ciao adesso vi giro sulle renne aspettate però sperando di non far disastri di nuovo vi giro sulle renne facciamo così vi giro su una renna logicamente poi poi basta logicamente il disegno degli occhi e della bocca li facciamo prima con e sono sicura che qui c'era con un pennarello quando poi sono troppo ordinate ritiro tutto no in effetti no non era ordinato vabbè con un pennarello all'acqua che sicuramente c'è ma sicuramente sarà qui o sarà caduto vabbè con un pennarello all'acqua che poi con uno spruzzino va via e poi con il pennarello indelebile il pennarello indelebile non va cancellato immediatamente ma va cancellato dopo uno o due giorni oppure mettetelo vicino a una fonte di calore perché se no non è ancora asciutto si sbava un po' ed ha un effetto anticato però insomma potete potete fare logicamente fate la prova su un altro su un altro tessuto ho saltato un passaggio perché prima con il pennarello blu perché se fate un occhio che poi ha finito non vi piace scusate mi sta andando via la voce finito non vi piace spruzzate fate asciugare e potete riprovare a fare degli occhi a fare insomma tutto quello che volete la bocca la bocca sorridente si potrebbe anche fare la bocca così con un pezzettino un po' più giù che fa anche la bocca un po' aperta basta ciao ciao a tutte grazie grazie ciao 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 la renna la renna rudolf eccoci qua ciao grazie aspettate che termina ecco